Ben tornati con le consuete previsioni a cura di MeteoOne. Dopo una breve pausa anticiclonica, un lento cambio di marcia a livello europeo è già cominciato. Difatti, una debole discesa di aria fredda ha già portato precipitazioni sparse sul nord-ovest. Queste precipitazioni nella giornata odierna tenderanno a scivolare velocemente lungo tutto lo stivale, arrecando tempo perturbato sulle regioni centrali e in serata anche sul sud Italia. Secondo le proiezioni modellistiche attuali, questo peggioramento potrebbe fare da apripista nei prossimi giorni ad una più consistente ondata di gelo su tutta l'Italia, ma ne riparleremo. Andiamo adesso a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni, per martedì 3 gennaio. Al mattino, cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le aree. Durante la giornata avremo un veloce e costante aumento della nuvolosità a partire da ovest. Le nubi saranno accompagnate da precipitazioni, in alcuni casi di moderata intensità, che potranno interessare la Basilicata, il Foggiano, il Barese e la Puglia Meridionale, in serata. Un veloce miglioramento si avrà dalla sera a partire dal nord delle regioni. Per quanto riguarda le temperature, esse saranno in diminuzione nelle aree interessate dal fronte perturbato, con un calo generale nei valori minimi. Venti generalmente deboli dai quadranti nord-occidentali, con rinforzi sulle aree montane della Basilicata e del subappennino. I mari risulteranno da calmi a poco mossi. Ed ora passiamo al nostro consueto appuntamento con la foto del giorno. Ringraziamo il nostro telespettatore Nunzio De Vito per questa incantevole foto del paesaggio murgiano-barese, innevato durante l'ultimo evento freddo. Se volete inviare la vostra foto del giorno, vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di Meteo One e Teleappula, oppure alle mail che vedete in sovrimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie a tutti per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.